Adesso è il momento della nostra raffica di mercato, Luca. Che riguarda Serie C e Serie D, partiamo dalla C, Girone C, con una notizia che riguarda il Taranto, perché è tutto fatto per il passaggio di Vincenzo Barone dal Gladiator al Club Rosso Blu, operazione definita nell'incontro che c'è stato tra il DS del Taranto Francesco Montervino e l'agente del giocatore Diego D'Orta. Barone è un attaccante classe 1995, può giocare sia da prima punta che da esterno d'attacco, sarà per lui la prima avventura in Lega Pro, ovviamente potrà giocarci a partire da gennaio. Passiamo al Girone H di Serie D, annuncia Fasano e Molfetta, partiamo da Fasano, Giacomo Lezzi, classe 1999, centrocampista, arriva dal Nardò, nell'anno scorso ha giocato 25 partite con i Granata, anche in questa stagione è rimasto a Nardò dove ha giocato tre partite, centrocampista alto 1,74 m, era già nella lista dei convocati per la partita di Bisceglie dello scorso turno, non ci ho pensato due volte ad accettare la chiamata di mister Ciro Danucci, ha spiegato e lo ritroverà dopo l'esperienza di Nardò. C'è un arrivo per la difesa a Molfetta, si tratta di Esteban Gabriel Giambuzzi, un difensore esterno destro 32enne, arriva dalla Virtus Matino con cui ha giocato sette partite mettendo a segno due reti. A un passo dall'accordo che dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì con il Molfetta l'attaccante Giuseppe Genchi che nella prima parte di stagione è stato a Bitonto, sondato anche un altro nero verde, l'esterno offensivo a Vittorio Triarico, piace anche un altro attaccante Gaston Corrado della Gelbison, ex Taranto. Bitonto che compra lo fa a centrocampo perché il principale obiettivo per la mediana è Bright Abdae del Lavello, ex Ascol in Serie B, un classe 1992, il Cerignola pure guarda un altro gioiello del Lavello, Pablo Burzio sondato anche dal Potenza in Serie C, il Lavello vorrebbe non cederlo. Team Altamura che va a caccia di un rinforzo in attacco, Gaetano D'Amacco della Nocerena è il principale obiettivo, piace anche Inazio Battista del Fasano, più complicato invece arrivare al trequartista, Alessandro Ficara, ex Gravina e Casarano. Proprio il Casarano cerca un nuovo numero nove, Fari su Demiro Pozzebon del Molfetta, due idee per la difesa del Nardò, Ferrera Murillo, Gomez ex Gravina e Simone Sales del team Altamura. Virtus Matino che può cambiare in panchina, Antonio Toma potrebbe essere il successore in panchina di Giuseppe. Branà infine Lavello che saluta non solo le trattative per Addai e Burzio, ci sono anche delle recissioni, l'ultima quella di Eric Herrera che va via diretto però più verso la Casertana nel girone H che non al Seravezza dove avrebbe ritrovato Samon Rodriguez. Il difensore Tom Siku passa al Cinzia, al Balonga invece è stato rescisso anche il contratto con il centrocampista Godberg Cooper.